porca puttana porca puttana porca puttana terzo video sfogo di fila pareggiamo 2 a 2 con la roma perdiamo in coppa italia e veniamo eliminati dal torino con a dopo pareggiamo al via del mare con il lecce e lo sapevo cazzo lo sapevo ma speravo di essere smentito e invece no e invece no ma noi non ci siamo con la testa il titolo sarà che noi con la testa non ci siamo siamo malati siamo malati a fare una cosa del genere tre minuti difesa messa in un modo orripilante e per recuperare hernandez si lancia con la velocità che è la sua prerogativa e con la spalla la butta dentro nella sua porta il primo autogol in carriera hanno detto io ce l'ho fan molto bene 1 a 0 per il lecce come se non bastasse non mi ricordo neanche il minuto è arrivato il 2 a 0 del lecce con baschi rotto secondo gol in campionato il secondo gol lo fa contro di noi perché siamo dei polli siamo dei polli baschi rotto come se non bastasse jandrei jandrei stava per segnare anche lui di testa ha fatto tipo un colpo di testa sbilenco da morire davanti alla porta da solo in bambola completamente rincoglioniti e stava per segnare pure lui il suo primo gol in carriera il suo primo gol in carriera gli stavamo facendo noi incredibile incredibile un miracolo divino che abbiamo pareggiato questa partita il lecce meritava di vincerla questa partita ora mi fermo non ce la faccio più a camminare già nel video precedente continuava a camminare però con una verve diversa abbiamo pareggiato con lecce al via del mare campo difficile come volete voi ma noi noi da prima dell'inizio del mondiale che siamo rincoglioniti pareggio con la cremonese vinciamo con la fiorentina all'ultimo seconda buccio di culo con autogol di milenkovic vinciamo in rimonta con lo spezia buccio di culo pure la poi torniamo vinciamo con la salernitana dove rischiamo di pareggiare riusciamo a buttare via una partita stra dominata con la roma e pareggiamo riusciamo a farci eliminare dal torino l'unica big per il momento eliminata dalla cupitalia siamo noi e riusciamo nell'impresa di dare un punto a lecce di essere a meno 9 dal napoli che ieri ha demolito la juventus con l'inter che gioca stasera e può accorciare con la juve che ha perso e noi non ne approfittiamo minimamente abbiamo fatto solo un punto da noi segna leao che si sveglia fuori e calabria santo iddio riesce a pareggiare di testa dopodiché però basta ma poi tra il gol di leao e quello di calabria perché cazzo non riusciamo a buttarne dentro almeno un altro io ci credevo ci speravo e invece no e invece no ragazzi facciamo schifo 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 io non mi arrendo finché la matematica non dirà il contrario ma ad oggi lo scudetto non ce lo meritiamo se lo merita di più la juventus che ieri ha perso 5 a 1 al maradona se lo stramerita il napoli noi abbiamo lo scudetto sul petto e stiamo facendo schifo schifo vergogna vergogna grazie a tutti